cominciamo a conoscerci non vi pare mi piace parlare con voi anche se è un po strano che io sia qua giù e voi sopra vedo la vostra faccia e gli occhi che leggono si spostano da sinistra a destra da destra a sinistra se siete arabi e magari state pensando cos'è questa magia baol non si può spiegare il baol e soprattutto non si può spiegare perché non si può spiegare però voglio venirvi incontro con un esempio c'è gente che muore senza saper ballare il waltzer basterebbero due ore della vita e un amico ballerino ma che niente restano ai bordi della pista vorrebbero tanto ma se qualcuno li invita dicono no grazie sono stanco muoiono senza saper ballare il waltzer ed io sa quanto gli piacerebbe morire senza aver imparato il waltzer e anche il mambo i salti mortali l'arpa la tipologia e altre cose di gran classe non è baol avremo modo di riparlarne torniamo al bar apocalipso è un posto caldo pulito illuminato bene io sto a cavalcioni su una sedia come una steppeuse e controllo l'entrata caso mai arrivasse la donna della mia vita o anche quella della vita di un altro va bene lo stesso vi piacciono i ricordi a me sì vi racconterò tutto dal principio lei si chiamava alice alice oak e scusa giovanotto mi volto una vecchia che sembra fatta con gli scarti del lifting di un pullman di vecchie americane con una parrucca fosforescente che se ha dentro delle pulci perlomeno sono vestite come prince quattro asteroidi smeraldo alle dita che ruotando fanno l'effetto discoteca rossetto color mela di biancaneve e cialamini hai un po' di tempo mi dice e si accosta sto parlando con degli amici dico io salve dice lei e vi saluta facendo l'occhiolino poi si arrampica sullo sgabello con uno strano scricchiolio e sussurra ti faccio venire in mente niente sì dico io un cantiere di lavoro in corso spiritoso dice lei vorrei vedere te a 70 anni però mica male la vecchia si pappa un bacardi e poi due poi tre e manda giù noccioline a galleggiarsi sopra ma davvero non ti ricordi di me mi concentro mi sembra di sentire il nastro della mia vita che si riavvolge all'indietro invece è il fischio della macchina espresso chi sei nonna misteriosa sono mara mei mara mei grido io mara mei grida galles mara mei la regina del porno muto la prima l'unica come non riconoscerla ho visto tutti i suoi film quando avevo otto anni dico commosso ricordo ancora rotaie bagnate e la scena della maionese in adelchi e l'orgia sotto il tavolo in barboncini roventi era una gran bella ragazza dice mara mei e scoppia in lacrime multicolori lei era la migliore di tutte dice galles emozionato una volta le ho anche scritto una lettera di cosa ti farei ne ricevevo più di mille alla settimana dice mara mei tra i rivoli su non pianga dico io tutti abbiamo il nostro momento d'oro è dopo dopo è bello ricordarlo se fosse sempre il nostro momento d'oro non ce ne accorgeremmo neanche quando è stato il tuo momento d'oro mi chiede mara ci penso un po e poi rispondo una volta ho vinto un pesce rosso a luna park segue un rispettoso silenzio galles vedendoci malinconici ci offre due fernette alla banana mi tolgo una curiosità dico si ricorda quando in la campeggiatrice lei entra nella tenda dei boy scout come no c'era volpe come regista nessuno sapeva riprendere il sedere come lui grande film l'ho visto tre volte se ricordo bene in quella scena lei aveva scusi il linguaggio un boy scout che la inzaborriava da dietro uno che la trifolava nel modo legale e intanto lei con la mano frullava i peperoncini ai due boy scout giovani e simultaneamente gonfiava la gomma al capo boy scout esatto dice mary may illuminandosi però mi ricordo che c'era un sesto boy scout che godeva più di tutti di fianco al capo boy scout che cosa e con che cosa gli stava facendo quello quello era mio marito disse mara may marito sì alberto era geloso geloso pazzo quando mi sposò sapeva che facevo l'attrice ma non immaginava il genere quando lo seppe ci rimase male era un uomo preciso cominciò a seguirmi sul set non tollerava che qualcuno mi baciasse infatti per i baci usavo sempre la controfigura in quella scena mi ricordo bene era geloso di tre boy scout voglia restare sul set a controllare e allora lo vestimo da boy scout e gli dicemmo che doveva fingere di godere e fingeva certo che fingeva era un tipo così semplice alberto non sapeva cosa fosse la parola perversione trascurava il lavoro per stare a mio fianco ricordate in quel film l'orgia con i tre cuochi del ristorante vegetariano beh ne avevamo girata la metà quando uno dei due cuochi si bloccò perché aveva mangiato troppa soia di scena forse lo sapete è un problema idraulico il sangue se va lì non va là ebbene il cuoco fu in grado di riprendere recitare solo dopo verso mezzanotte io ero stanca morta e c'erano da girare ancora i primi piani non primi piani di facce naturalmente allora sapete cosa fece alberto si sacrificò e mi fece la controfigura sisto sostituì nei primi piani col cuoco doveva essere proprio innamorato di sì io sì poveretto è morto no che non è morto quel bastardo ha messo su una casa di produzione di animal sex e controlla il 70 per cento del settore equino e il 30 per cento del porno rinoti porno ornitorinco porno ornitorinco sì va fortissimo sul mercato australiano ma basta parlare del passato le dirò perché sono qui ho bisogno di un baol e lei melchiade sparogozzi e bedrosi anbaol è uno dei pochi rimasti io non lavoro più ma magolo è ancora ho bisogno dei suoi trucchi gli occhi della vecchia brillarono di eccitazione ho bisogno dei trucchi della scuola away e anche di più cercai di dissimulare il mio nervosismo ma il bicchiere che mi cadde di mano le noccioline che sbuttai e forse soprattutto la mia caduta dalla sedia fecero sì che lei si accorgesse di qualcosa non faccio più trucchi anzi non li ho mai fatti sappiamo tutto lei ha militato clandestinamente nell'fnc nel sdofnc e nel ccrtsn è stato espulso dal ccrtsn per il suo appoggio all'ucc pll drd e quanto questo si è scisso lei è confluito nella frazione ucc lrd che si è poi divisa in tre gruppi in uno dei quali l'ucc lei ha militato ai tempi dei sette splendidi giorni fu lei che organizzò l'attacco dei conigli bianchi alla caserma di emme e in seguita a questa azione fu espulso dall'ucc e con un amico fondò il cc poi lei è della polizia no sono molto amica di una persona che ha bisogno di lei una persona speciale ho conosciuto solo una persona speciale dissi stringendo il bicchiere un giorno svegliandomi le dissi alice alice cos'è cambiato tra di noi e lei mi rispose ma io non sono alice allora capì da quel giorno sospirai buttando giù tutta la dose di fernette l'unica cosa speciale della mia vita è quando in tv danno un vecchio film di grappa tax è proprio lui che la vuole disse la vecchia grappa tax il grande saverio antonio de grappa tax sì il più grande e comico di tutti i tempi è morto sei anni fa non è morto e vivo e la aspetta voglio una prova quando lei era un giovane mago una sera grappa tax venne a esibirsi nel suo night era al culmine della carriera lei invece se la passava male non aveva neanche lo smoking per andare in scena grappa tax le presto al suo mi ha detto che quando lo stirò scapparono via dodici colombe è vero o no non è vero lo sapevo racconta sempre un sacco di balle quel vecchio rincoglionito comunque lei verrà lo stesso chi glielo dice è qualcosa che ha a che fare con il suo segreto presi l'impermeabile e uscimmo ci urlarono dietro l'impermeabile non era il mio era una tranquilla notte di regime le squadre antidroga sparano agli spacciatori dalle ferrari in corsa gli spacciatori rispondono al fuoco centinaia di gorilla scortano i gerarchetti verso le zone del vizio ghinze testacci e perversaie verso i night e i pip e i parti bingo il centro è intasato due strade sono chiuse per sfilate di moda la polizia vigila ieri c'è stato uno scontro tra gli stilisti governativi e quelli del governo ombra sono scoppiate zuffe in passerella sette indossatrici ferite e uno stilista morto con un tacco a spillo in fronte adesso sfilano armati la vecchia mara ed io stiamo attraversando il ponte sul fiume moloncica quello che separa ghinsa dai quartieri periferici sotto questo enorme ponte vive molta gente per lo più africani albanesi e inglesi sotto non vuol dire nel fiume lì ci sono eserciti di topi infuriati e l'acqua fuma di veleni come la pentola di una strega la gente vive dentro grandi amache sospese tra arcata e arcata oppure nelle intercapedini dei piloni la polizia cerca di impallinarli al volo ma non è facile da 70 metri scalano le pareti di ferro cemento come gechi scavano buche trappola lungo la strada che corre sul ponte ogni tanto un'auto ci casca dentro e fila giù per 70 metri diritta nel fiume e loro spolpano non buttano via niente i loro cappotti di interno di mercedes sono assai ricercati stasera sembra tutto normale il gigantesco groviglio di auto arranca in una nube di gas un'intera corsia è chiusa da anni per lavori in corso nessuno sa più quali lavori sulle montagne di terriccio e tra le buche corrono i fuoristrada per cui ormai questa è una corsia preferenziale le ha l'auto della vecchia mara mei e una av after war 2000 le fanno a gambettola con i rottami dei tank di guerra questa una volta era un tank iracheno sono rozze ma molto robuste se lavori per il regime puoi chiedere il permesso di tenere la torretta con cannoncino mara non ce l'ha ma se ne frega sorpassa a destra lotta affiancata affiancata con le volvo thor con le fiat macho e con le toyota samurai tutti nuovi modelli da ingorgo che piacciono tanto ai guerrieri stradali siamo siamo quasi a metà del ponte quando ci blocchiamo c'è una rolls royce in mezzo alla strada 16 metri di limusine nera con dentro uno che telefona da varie parti gli piovono contro biglie di ferro ma il guidatore ai vetri blindati dietro di noi arriva un camion con lo stemma dei camionisti dell'apocalisse una coop di tir da 240 chilometri orari il tir è alto sei volte noi a destra della cabina è appesa una madonna luminosa con in mano un cuore di cristo intermittente a sinistra c'è un poster tridimensionale con un'orgia di benzinaie sopra la cabina un paio di corna di cervo sauro e una fila di teschi antinebbia scende un biondo baffuto si appoggia alla rolls e dice facciamo un pisolino non mi rompe i coglioni dice l'uomo della rolls sono del servizio finanza e sono collegato con la borsa di new york se non sto fermo non capto il segnale telefonico questione di cinque minuti ah beh se sono cinque minuti dice il biondo baffuto e torna al suo posto subito dopo vediamo un ombro uscire dal tir e passare sopra la nostra macchina è il braccio di una gru con in fondo una piastra magnetica pesca la rolls come nei giochetti del luna park la solleva delicatamente la fa penzolare fuori dal ponte e la molla passiamo non li sopporto quelli che bloccano il traffico dice maramei ma neanche i camionisti dell'apocalisse mi vanno giù in questo mondo c'è troppa violenza e poco amore ben detto dico io allontanandole la grinfia dalla mia cintura lei tiene il broncio usciamo dalla tagenziale prendiamo una vecchia periferica che ci porterà ai quartieri dormitorio è uno stradone delimitato da due terrapieni di immondizie su cui stormi di gabbiani strillano la loro gioia di mendicanti sopra i terrapieni fioriscono ingegnose soluzioni al problema alloggi per primo incontriamo il grounding village dove la gente vive dentro gli scatoloni dei televisori più in là c'è la tubopoli dove si abita dentro le vecchie condotte del gas dopo tubopoli c'è camperland la città semovente e poi la zona degli orti miracolosi dove alcuni vecchi artisti del settore ritagliano centimetri quadrati di cavole patate in mezzo all'erbaccia al catrame al chilometro 28 c'è un orto famoso perché il proprietario riesce a far crescere banane sotto un cartellone pubblicitario della air sudan dopo il trentesimo chilometro la strada si fa impervia e si intravedono sullo sfondo i quartieri dormitorio come una catena montuosa una polvere nera ci avvolge non è più né notte né giorno non è andata a vivere in un bel posto grappatax dico io la gente dimentica fa la vecchia quando cominci sono morti in miseria quanti comici sono morti in miseria olio keaton socrate e le dive porno perché secondo te da 40 anni nessuno mi fa più proposte di lavoro proprio non lo so arriviamo in un crocevia che una volta doveva essere molto frequentato ora sull'asfalto crescono agavi e cactus dell'antico splendore è rimasto solo una serie di cartelli stradali tutti decorati di scritte con incitamenti alla squadra alla donna amata insulti alla squadra alla donna odiata ai vizi del nord a quelli del sud a nostro signore distratto il palazzo di grappatax è un torrione consunto la tollo k 20 piani con tutti i vetri rotti due o tre ragazzini giocano a golf sul prato violaceo una vecchia cercatrice di radicchio selvatico col fucile a tracolla ci osserva lontano è pericoloso girare a quest'ora uno dei ragazzini ci ha puntato e arriva sfoderando una pistola grande come lui fuori soldi stranieri dice rapini sempre la gente con un mazzo di fiori gli chiedo il bambino ha infatti in mano un grosso mazzo di fiori di carta me ne porto sempre dietro uno o due per imprevisti del genere devo cambiare pushe dice il bambino allontanandosi con aria meditabonda la vecchia maramei si appoggia a me tutta dolcezza e spigoli e mi fa l'occhiolino così non sapevi più fare trucchi vero solo per legittima difesa entriamo nel palazzo e chiamiamo l'ascensore lo sentiamo scendere con un sibilo da jet arriva e dentro ci sono due nani che sonnecchiano e un terzo che prepara il caffè su un fornello salve raul salve bobo salve nick dice la vecchia vi presento un amico un mago baol loro sono gli gnocchetti forse ne hai sentito parlare come no i famosi acrobati comici vi ho visto un paio di volte eravate fantastici bobo si mette a piangere non gli piace parlare del passato dice raul l'ascensore parte rumoroso e lento dentro fa caldo ci sono brandine e un cucinotto siamo venuti ad abitare qui tre anni fa dice raul non ci è mai piaciuto chiuderci in un appartamento siamo abituati a vivere in alto quando non stavamo sul filo o sul trapezio dormivamo dentro le astronavi dell'otto volante bobo per esempio non avrà non ha mai messo piedi a terra si è sposato sui trampoli la polizia ha provato a scacciarci dagli ascensori e prima o poi ci riuscirà magari domani nick scoppia a piangere non gli piace parlare del futuro dice raul ma non eravate quattro una volta bobo piangere di rotto sì c'era anche george dice raul il più piccolo 63 centimetri con le scarpe insieme facevamo il quadruplo anzelman incrociato al trapezio unici al mondo facevamo anche il salamino volante uno attaccato ai piedi dell'altro poi george incontrò un tipaccio uno del regime gli promise di lanciarlo in televisione gli disse che gli avrebbe fatto stretching in fare in stretching in palestra e lo avrebbe allungato george ci cascò dopo qualche mese ci venne a trovare era alto un metro e sessanta con certi modi da fighetto presentava un programma di barzellette razziste alla tv liga liga artica fu lui che coniò lo slogan più a nord di noi non c'è nessuno faceva lalle convention e in meeting beveva con la cannuccia non era più lui l'ambizione lo rodeva continuò a tirarsi le ozza con attrezzi sempre più raffinati arrivò a un 1 e 85 fu la sua fine un giorno andava in moto sul peluso highway vide un passaggio a livello spinse la moto a tutta birra per passarci sotto perché vedi anche se era 1 e 85 dentro aveva ancora l'istinto del nano e i nani passano sotto a tutto però quella volta non passò disse nick o almeno passò tutto meno la testa brutta storia disse io i tre nani commossi si soffiarono il naso della mia giacca a una parete dell'ascensore vidi una foto che li ritraeva i tempi d'oro nel loro costume di scena in un'altra scherzavano con buster keaton alla cupul in un'altra ancora c'era bobo il giorno del suo matrimonio con eva moore del crazy horse e adesso che lavoro fate dissi rompendo il silenzio raul si mise a piangere non gli piace parlare del presente dissero gli altri l'ascensore si fermò qualche metro sotto il livello del piano salimmo con una scala di corda grapatax abitava in una soffitta lunga e stretta col tetto a vetri sul tetto stavano immobili centinaia di corvi che ci guardarono entrare girando la testa tutti insieme la soffitta era spoglia intravidi nel fondo una poltrona e un tavolino sulla poltrona c'era un plaid di lana sotto il plaid c'era in grande grapatax grazie a tutti